Da un lato il centro-sinistra è impegnato ad allargare il più possibile i confini delle proprie alleanze politiche. Dall'altro il centro-destra è alle prese con un nodo spinoso e tuttora irrisolto di nome Francesco Scopelliti. L'ex assessore alla sicurezza della Giunta Bruni oggi è esponente di azione nazionale, il nuovo soggetto sovranista e di destra che ha i rappresentanti più noti nel fratello ed ex governatore della Calabria Giuseppe e in altri nomi noti della destra italiana tra cui Francesco Storace e Gianni Alemanno. Finora Scopelliti è di fatto il grande escluso della coalizione che sostiene la candidatura a sindaco di Mario Landriscina e stando ai rumors sarebbe proprio il gelo tra il fondatore del 118 e il consigliere comunale di opposizione ad avere finora impedito una qualsiasi alleanza. Stato di fatto che ora potrebbe avere un effetto a sorpresa, per esempio la presentazione comunque di una lista civica da parte di Scopelliti. Non solo, il consigliere potrebbe anche decidere di candidarsi a sindaco, soprattutto nel caso in cui da parte di Landriscina proseguisse la sorta di veto più o meno silenzioso nei suoi confronti. Difficile quantificare il possibile peso elettorale dell'eventuale mossa di Scopelliti, ma una sua candidatura potrebbe rivelarsi comunque una spina nel fianco nella coalizione di centrodestra. E soprattutto segnare una frattura del campo politico nel momento in cui, al contrario, è fatta eccezione per i due movimenti di sinistra guidati da Celeste Grossi e Bruno Magatti, negli ultimi giorni il PD ha stretto alleanze con gli ex-NCD, con i Verdi e con il Partito Socialista, puntando a non perdere nemmeno un singolo zero virgola nella corsa a Palazzo Cernezzi.